Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovo video dedicato a The Sims Oggi però riprendiamo la challenge, la 7th toddler challenge che vi è piaciuto tantissimo e sono curiosa di vedere cosa succederà perché come potete notare 4 dei bambini sono furenti, sono arrabbiate, addirittura molto infuriate le bambine e poi 2 invece sono molto tristi come potete vedere quindi ci sono un po' di cose che non stanno andando bene quindi Mattia è qui e ha bisogno di essere lavato quindi Mattia fai una cosa, vieni qui, anzi andiamo qua nel bagno qui principale e vai qui poi abbiamo Andrea, lui ha bisogno di mangiare quindi vediamo se c'è qualcosa di pronto questo, mettiamolo qui e fai, mangia crocchette di pollo poi Lisa anche lei ha bisogno di mangiare e di andare in bagno vediamo se puoi usare il vasino da sola, ovviamente no quindi vieni a mangiare anche tu però mi sa che è soltanto una porzione quindi vediamo se abbiamo qualcos'altro qui tipo in frigorifero ma non credo non credo, vediamo apri, cosa abbiamo? ah che c'è qualcosa fantastico quindi mettiamolo qui sul tavolino e quindi mangia la strapazzata la colazione poi c'è Francesca anche lei ha bisogno di mangiare e anche lei ha bisogno di farsi un bagno quindi anche tu vieni qui invece loro cosa hanno? sono semplicemente molto tristi lei ha bisogno di farsi un bagno quindi vai qui poi hai bisogno di usare il vasino ma anche tu hai bisogno di una mano quindi vediamo un po' quel che succede prima di tutto allora vediamo un po' prendi qualcuno e portalo a fare un bagno ad esempio Mattia, no, com'è che si chiamava lui? Lucas quindi facciamo fai un bagno con fai un bagno a ecco qua Lucas velocissima grazie come no? vai in bagno vai a fare il bagno a Lucas ascolta la domanda di Francesca no, non c'è tempo Francesca cos'hai? tu hai soltanto un po' di fame vediamo se gli altri bimbi sono andati a mangiare qualcosa lei è qui e anche lei ha bisogno di essere lavata chi è che sta piangendo? cerchiamo di capire cos'ha controlla il bebè vieni subito qui subito corri corri e poi fai un bagno a loro due quindi fai un bagno a Lucas abbiamo detto è Lucas lui no, è Mattia quindi fai un bagno a Mattia vediamo ok basta vai vai a fare un bagno a Mattia sei a disagio perché hanno tutti bisogno di essere cambiati poi magari a lei cambia semplicemente il pannolino altre scelte cura del bebè e facciamo cambia il pannolino facciamo prima il cambio pannolino vediamo se se basta vediamo se è arrivato da mangiare a lei vediamo un po' sì meno male che così lei mangia che ha soltanto bisogno di mangiare dai ma perché cosa state facendo ok dai dalle da mangiare bene ok quindi lei è a posto e mangia tu hai bisogno di andare in bagno quindi vieni qua e cambia il pannolino dove sei ok altre scelte cura del bebè e facciamo cambia il pannolino vediamo se può bastare dove sei finita dai cambia il pannolino a lei vediamo un po' lo so che hai bisogno di andare in bagno però cambiamo un po' di pannolini prima aiuto ok proviamo anche a lui altre scelte cura del bebè e facciamo cambia il pannolino ok vediamo se è stato abbastanza in realtà no quindi prima di tutto fai una cosa visto che hai bisogno usa cambia il pannolino poveretta hanno tutti bisogno di essere lavati mi sa che qua c'è assolutamente bisogno di una babysitter e loro due intanto tu hai fame bisogno di andare in bagno bisogno di attenzioni usa il vasino vai vai che tu sei indipendente puoi usare il vasino poi facciamo lei ha bisogno di mangiare quindi altre scelte cura del bebè dai il cibo lei è l'unica felice ed è infatti qua fuori a giocare tu hai bisogno di attenzioni tu hai fame hai bisogno di farti un bagno tu invece sei a letto ottimo quindi uno è a posto lui ha bisogno di mangiare altre scelte cura del bebè dai il cibo assolutamente poverina dai 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 no vieni qua e dai il cibo a lui altre scelte cura del bebè dai il cibo veloce veloce no stanno piangendo tutti stanno piangendo tutti non ce la potremo fare lei cos'ha metti giù si ok adesso vai a dare Mattia molta fame vai subito da Mattia subito lui ha troppa fame altre scelte cura del bebè dai il cibo e poi facciamo una cosa prepariamo qualcosa da mangiare che forse è meglio cuciniamo maccheroni al formaggio e facciamo formato festa assolutamente vediamo poi lei è triste sono tutti tristi chi sta piangendo aiuto aiuto fai delle facce buffe chiacchieriamo balbetta e abbraccia vediamo qui cosa abbiamo parla controlla il bebè no cucina prepara da mangiare per tutti aiuto sta succedendo un casino un casino che lui ha usato il vasino perfetto adesso ha soltanto bisogno di un po' di attenzione quindi magari vieni qui e parla un po' con lei quindi altre scelte amichevole balbetta vediamo un po' dai che il cibo è quasi pronto sono soltanto le due del pomeriggio e lei è distrutta ha bisogno di dormire ha bisogno di farsi un bagno e anche lei giustamente ha bisogno di mangiare qualcosa dai 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 che stiamo preparando dai che è pronto vediamo manca poco manca poco ottimo quindi questo mettiamolo qui e direi di chiamare a tavola decisamente oppure sapete cosa arrangiatevi quindi tu vieni qui e alt facciamo una cosa allora tu hai bisogno di mangiare quindi prendi una porzione tu hai bisogno di mangiare prendi una porzione tu hai bisogno di mangiare si prendi una porzione tu hai bisogno di mangiare si quindi prendi una porzione tu hai bisogno no appena finito tu stai dormendo però dopo prendi una porzione poi anche lei poveretta prendi una porzione vediamo se tutti mangiano quindi magari si risollevano un po' l'umore vediamo un po' dai piano piano tutti stanno venendo qui vediamo un po' ok bene uno due tre sono qui hanno preso da mangiare i maccheroni tu dove stai andando vieni qua sono tutti sporchi alcuni ancora tutti sporchi comunque vediamo un po' come se la cavano uno due treccoli qua bravissimi guardateli che bravi stanno mangiando lei cos'ha? hai bisogno di farti un bagno e di riposare quindi vieni qua e fai un bagno veloce anzi fatti una doccia fai la doccia velocissima lui cos'ha? ha bisogno di dove sei? dove sei? dove sei? ecco ti qua ha bisogno di farti un bagno quindi tu ti chiami aiuto sto sto impazzendo lui si chiama mattia quindi mattia facciamo che vieni qui e poi lei ti fa un bagno fai un bagno a mattia poi c'è anche lui che ha bisogno di no lui semplicemente ha bisogno di divertimento quindi prendi il tablet e guarda i video dai divertiti un po' e poi magari vai anche tu qui vai qui così magari possiamo può aiutarti può ascoltarti chiacchierare lui è bravissimo sta dormendo vediamo se la sua doccia è finita ok direi che può bastare poi chi ha bisogno di fare un bagno lui è già qui lui no però dopo appunto vieni qui e quindi lei ti consolerà un pochettino lei ha bisogno di fare un bagno quindi vieni qui lei hanno tutte bisogno di farsi un bagno vieni qui tu hai bisogno della vescica quindi chiedi aiuto con il vasino e tu invece vieni qui perché anche tu hai bisogno di farti fare un bagnetto perfetto e il primo ha fatto il bagno perché se è lo stesso tutto sporco comunque facciamo poi il bagno a lei quindi altre scelte cura del bebè e fai un bagno metti giù no 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 stai qui stai qui stai qui dove stai andando dove stai andando cosa sta succedendo ok no ma quello più triste però è lui lui ha bisogno di attenzioni dov'è vieni qua e facciamo altre scelte buffo fai delle facce buffe poi altre scelte amichevole accoccolati e poi tu altre scelte e no ok il bagno sì ottimo fai un bagno e poi fai un bagno anche a lei quindi altre scelte cura del bebè e fai un bagno piano piano dai forse ce la faremo ad arrivare a sera sono tutti molto tristi ma che bagno è stato questo ok perfetto abbiamo soltanto una bambina felice su su sette però lei ha bisogno di fare un bagno dai no 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 quindi usa il pannolino anche se in realtà non ne avevi bisogno e poi hai bisogno di un bagno quindi chiedi del bagno un attimo ok facciamo passare quest'attimi di sonno poverina ok quindi no 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 non puoi non puoi devi fare assolutamente il bagno a lei altre scelte cura del bebè e fai un bagno subito per forza e lui ha bisogno di mangiare non c'è qualcosa non è rimasto più niente non è rimasto più niente non ci credo quindi apri non c'è niente in frigorifero quindi poi vieni qui e facciamo cucina e prepariamo e facciamo una macedonia di frutta formato festa sta diventando un po' complicata la cosa vediamo se almeno lei la può lavare bene perfetto quindi anche lei è no ma è sporca lo stesso perché è lo stesso tutta sporca hai bisogno di dormire quindi da brava da sola vieni qua e dormi lui poverino sta impazzendo quindi vai da Veronica vieni qui e facciamo fai delle facce buffe in braccio lui eccolo qua soltanto ha bisogno di divertimento quindi disegna con il lama oppure potresti anche venire qui fuori e gottonarci dentro tu hai bisogno di di farti un bagno e di dormire no lei invece ha bisogno di dormire quindi lo sta facendo lui poverino è distrutto dove è finito eccolo qua che sta chiacchierando un po' e e poi chiedi un po' di attenzione quindi abbraccia gioca balbetta vediamo un po' e invece tu vieni qua e fai altre scelte aiuto e bagno no no di nuovo è successo di nuovo le continua a crollare in ogni stanza poverina praticamente la scorsa notte non ha quasi dormito voilà quindi a te è passata un po' o no mica tanto quindi facciamo fai un discorsetto assolutamente perché ti sei comportato male controlla il bebè poi magari prendi in braccio ok porta come si chiama Mattia a farsi un bagno bene lei sta dormendo lei anche lei ha bisogno di essere lavata non ci credono tutti bisogno di un bagno dove sta andando adesso dove stai andando eh non puoi non puoi cerchiamo di capire un attimo come sta andando la situazione come sta andando avanti lei sta dormendo grazie a dio Ariel ha bisogno di farsi un bagno e di dormire io però la metterei a dormire quindi Ariel dove sei vieni qua notte vieni qua dormi perfetto poi abbiamo Francesca anche lei ha bisogno di dormire però prima di tutto ha bisogno di un bagno quindi chiedi un bagno Balbetta con lui no quindi perfetto lei sta dormendo continuiamo a lasciarla dormire Andrea ha bisogno di dormire quindi notte notte no quindi facciamo dormi ok e invece Mattia ha bisogno di un bagno quindi vieni qua e chiedi del bagno perfetto vediamo se lei va a dormire ottimo lei anche qua lei cosa doveva fare chiedere un bagno vai vai sei sporchissima e tu perché sei lì in piedi allora magari il cibo non l'hai finito esatto poi devi riprendere anche la macedonia di frutta perché altrimenti non ci sarà da mangiare ok le bimbe sono quasi tutte a letto sono quasi tutte dormendo manca soltanto lei vediamo perfetto ok ok quindi abbiamo quattro bambini che stanno dormendo lei cosa c'è dai dormi dormi anche se sei un po' triste però dormi un attimo ok stanno dormendo tutti non ci credo lui sta facendo il bagno bravo Mattia e poi da bravo vieni qua e dormi e ci manca ci manca lui che si chiama i nomi ancora non li ho imparati Lucas quindi Lucas vieni qua e chiedi del bagno subito e poi magari che lei poverina facciamola andare a letto hai bisogno di mangiare e di dormire di nuovo è crollata di nuovo vediamo se arriva Lucas eccolo qua dove stai andando no si è messo sul divano no vieni qui e vai qui chiediamo del bagno ecco qua metti fai il bagno lui poi vai a dormire dai anzi in realtà e riprendi la macedonia di frutta vediamo ok lo so che sei stanca però almeno domani ci sarà qualcosa da mangiare e poi questa la mettiamo in frigorifero ottimo ma il bagno lui non l'hai fatto alla fine no quindi facciamo altre scelte aiuto bagno no chi si è svegliata che poi tra l'altro c'è tutta la casa l'ercia vediamo di sistemare un attimo queste cose mettiamo qua tutti i piatti sporchi poi cosa c'era anche questo lo mettiamo qui poi abbiamo un altro piatto lo mettiamo qui 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 e poi c'è da sistemare questo pasticcio quest'altro pasticcio qui mettiamolo intanto qua poi c'è da pulire il seggiolone ci sono un po' di pulizie da fare comunque chi è che si è svegliata ma lei cosa ci fa qua? no aiuto sto impazzendo vediamo quanti giorni sono passati ma mancano ancora manca ancora tanto quanti giorni mancano? sei ancora sei giorni al passaggio d'età o meglio quasi cinque comunque tu stai mangiando però prima devi smetti di mangiare e fai un bagno a Lucas altre scelte cura del bebè facciamo metti a letto chi sta piangendo? cosa c'è? vieni qua facciamo cambia il pannolino e facciamo controlla il bebè e poi facciamo leggere il bebè per farlo addormentare facciamo addormentare e lei chi è? Ariel vediamo un po' no è corollata ancora no non ce la può fare quindi io direi di farla riposare chi sta dormendo? stanno dormendo in tre soltanto in tre e gli altri quattro sono qui che vagano per lei non può dormire perché è troppo spaventata quindi chiedi la favola della buona notte lei vediamo se può dormire sì quindi dormi tu vediamo se puoi dormire no chiedi la favola della buona notte lui invece può dormire quindi vieni qui e dormi e tu poi vieni qua anche tu Veronica e dormi te lo meriti perché hai sei stata sveglia troppo a lungo e sono già luna di notte vediamo un po' ok dai piano piano vediamo se ce la facciamo ok altri due che sono andati a dormire chi manca? soltanto lei dov'è finita? hai bisogno di un bagno quindi vieni qua e bolle di sapone ok vediamo un po' eccola qui fuori vediamo se viene in casa e controlla il bebè e poi vieni a dormire eccola qua magari cambiamogli al pannolino altre scelte cura del bebè e facciamo no cambia il pannolino non c'è nulla ecco è crollata di nuovo vediamo se puoi dormire adesso ok dormi e poi anche tu finalmente Veronica ti metto ti faccio dormire che così chiudiamo qui l'episodio oggi è stata veramente difficile da gestire la cosa perché tutti avevano una necessità diversa quindi dovrò organizzare meglio il cibo sicuramente dovrà esserci dovrò preparare qualcosa in più da avere in frigorifero di modo che se i bambini hanno bisogno di mangiare hanno fame possiamo dargli da mangiare più velocemente quindi non mi sembra vero stanno dormendo tutti alla fine dopo tutto il giorno praticamente siamo riusciti a farli dormire però prima bisogna di andare in bagno visto quindi vai in bagno e poi vai a dormire dai prima che qualcuno si svegli perfetto dai ci siamo ci siamo ci siamo ottimo vai a dormire e chiudiamo qui l'episodio vediamo un po' piano piano ok quindi il secondo giorno è andato stanno dormendo tutti come non detto si è svegliato Lucas cosa c'è hai bisogno di di andare in bagno quindi facciamo che usi il pannolino e poi non puoi dormire perché sei spaventato quindi facciamo che vieni qui e ti siedi un attimino da solo da bravo e poi dopo un attimo dormi anche tu perché Veronica ha bisogno di dormire quindi non disturbiamo piano piano poi facciamo balbetta fra te e te ecco così magari svegliamo qualcuno però non può ancora dormire perché è troppo spaventato quindi Jessica vieni qui e racconta una storia e poi leggi Lucas per farlo addormentare devi svegliati un attimo che comunque avrai ha riposato un pochettino davvero poco però dai qualcosina giusto per mettere a letto Lucas e poi torni a dormire e dormi provate anche voi a giocare a questa challenge a questa sfida è davvero complicato non sembra ma gestire sette bebè fa impazzire veramente c'è da impazzire provateci anche voi fatemi sapere come vi sta andando adesso facciamo leggere un attimo qualche qualche pagina a Veronica e poi andiamo a dormire anche noi prima che si addormenta magari sul letto del bambino no si è svegliata lei cosa c'è alt cos'hai no non puoi dormire di nuovo scusami perché ti sei svegliata perché sei triste no notte notte vieni qua favola della buonanotte nemmeno quella fai un pisolino allora ok perché Veronica ha bisogno di dormire per forza ma dove stai andando piccolina dove stai andando tra l'altro ci sono un sacco di pasticci da ripulire guardate che casino non ho nemmeno fatto caso a chi li abbia fatti comunque va bene così vieni qui a dormire ma anche soltanto tu puoi stanno dormendo tutti e forse alle 6 del mattino successivo possiamo chiudere l'episodio vediamo un po' vai a dormire brava ok sono arriviamo alle 7 se ce la facciamo ok sono le 7 del mattino stanno dormendo tutti si è svegliata una bimba si è svegliata Melissa perché ha bisogno di mangiare di di lavarsi insomma di un bagnetto di divertimento però almeno abbiamo la macedonia di frutta in frigorifero quindi domani avremo qualcosa da dare a questi bambini come per colazione lei ha bisogno ha bisogno di dormire un po' e qualcosina ha recuperato quanto ci manca ci mancano quindi ancora 5 giorni esatto 5 giorni al passaggio di età 5 giorni dobbiamo resistere per 5 giorni per completare la challenge speriamo che non ci portino via nessun bebè e che non succeda nulla nessun bebè specialmente se questa challenge vi piace mettete un bel pollice in su iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video io vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao ciao